Siamo nella zona detta Esedra, parco di Villa San Remigio. La nuova puntata di Leghi e Monti è dedicata agli appassionati del verde, agli appassionati di fiori, ma soprattutto agli appassionati di bello, perché faremo un giro in alcuni dei giardini di Verbania, alcuni famosissimi come quello di Villa Taranto, altri un pochino meno conosciuti, ma con tante particolarità e tanta storia da raccontare. Vi aspetto alla nuova puntata di Leghi e Monti, come sempre la domenica alle 13.30, alle 19 e alle 23. Vi ricordo che siamo anche sui social e ci trovate sul nostro sito internet vcoazzurratv.it, sezione turismo Leghi e Monti, lì ci sono tutte le puntate del nostro settimanale, vi aspetto domenica.